Mare Teresa di Lascia, passaggio in ombra, passate la parola su YouTube stanno cambiando il mondo. Charmanna sospirò aggiustandosi sulla sedia. «Abbiamo parlato tanto», disse soffiandosi il naso rapidamente e volgendosi a Charmanna con un sorriso nel volto accaldato. «Dovresti sentire come parla bene, che belle cose che dice, chissà dove l'hai imparata». Infila una mano nei cappelli ricciuti tirandoseli indietro. In un attimo si coprì le dirughe che le attraversavano la fronte rotonda. «Sinale Tempie». Così corrucciata e inquieta, d'un colpo sembrava avere tutti i suoi anni, che allora erano solo venticinque, ma Anita ne ha sempre mostrati assai meno di quelli che aveva, e il suo viso si alterò in un dolore sconsolato. «Signorina Anita», la chiamò Charmanna, «coraggio, non fate così». «Anche voi sapete che cos'è la fame, l'abbiamo conosciuta tutti, ma quella che ha patito per lui è un'altra fame, è una fame turba, che toglie ogni rispetto. Ebbene», continuò senza tono. «Egli preparava da mangiare ogni giorno, era bello pensarlo a mangiare». Concluse senza sapere continuare. Si mise a piangere equitamente e Charmanna le passò il fazzoletto bianco che la moglie le dava pulito ogni mattina. «Capite», disse Anita con la buccia spezzata dal pianto, «per lui era una santa». Charmanna andò a casa con il cuore pesante, perché questa volta i suoi buoni uffici e la sua diplomazia non potevano servire. Notte di tormento Da quando mio padre era tornato al paese, Anita aveva perso la pace. Già la gente, informata puntina di quella visita mattutina che Francesco ci aveva fatto, non si tratteneva più dal chiedere cosa sarebbe successo e che intenzione aveva il figlio di Tripoli. Era giunta persino una lettera a mano di Don Vittorio, il quale dalla città dove ormai era tornato a vivere portandosi di Tartitina, che finiva al liceo in una scuola normale. Faceva a mia madre tanta raccomandazione come fosse una figlia sua e le augurava tutto il bene del mondo. Insomma, nessuno più era disposto alla riservatezza sulla nostra storia e su essa giravano voci diverse e opposte. Qualcuno diceva che Francesco D'Auri è tornato dalla guerra e ha avuto la notizia della mia nascita. Era andato da Anita a dire che non si mettesse gli idee per la testa. Perché in tempo di guerra gli orfani ce ne sono fin troppi e lui voleva essere considerato morto, ovvero disperso, in terra straniera. Altri dicevano che la signora gli aveva fatto sapere attraverso Charmano che se non si assumeva tutte le responsabilità si sarebbe rivolto ai carabinieri perché di conoscenza ne aveva quante ne voleva. E la moglie del comandante aveva partorito con lei. Altri ancora dicevano l'una cosa e l'altra a seconda delle circostanze nella quale si trovavano a discutere e dell'opinione sostenuta che avevano di fronte. Ben presto, mia madre, non potete più uscire senza sentire crescere attorno a sé la curiosità dei paesani. E insomma, signorina Anita, la bambina che diceva? Domandavano impertinenti, come se l'infante di tre anni che ero avesse potuto dire chissà quali cose delle quali degnamente discutere con tutti. Mia madre si schermiva con piccole frasi sfuggevoli fingendo di non capire dove volessero arrivare con le insistenze. La peccola sta bene, grazie a Dio, diceva evitando gli sguardi. Sta proprio bene. Ne acquisto.